E' scomparso all'età di 87 anni il professore Riccardo Giorgino, docente emerito all'Università di Bari e fondatore al Policlinico della Scuola di Endocrinologia, disciplina di cui era considerato uno dei massimi luminari a livello internazionale. Una vita dedicata allo studio e alla ricerca, come ricordano dal Dipartimento di Medicina dell'Università di Bari, dove Giorgino ha insegnato per ben 64 anni. Una carriera lunga e disseminata di successi. Dopo la laurea all'Università la Sapienza Giorgino si specializza in Medicina interna a Bari, poi anche in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Gerontologia e Geriatria. Nel corso del suo impegno accademico ricopre ruoli di grande prestigio. Nel 2008, su proposta del Senato accademico dell'Università di Bari, il Ministro per la Ricerca lo nomina professore emerito di Clinica Medica, ma è stato anche direttore della Scuola di Specializzazione di Endocrinologia, delegato del Rettore per le Scuole di Specializzazione dell'Area Medica dell'Università di Bari, presidente della Società Italiana di Endocrinologia e della Società Italiana di Diabetologia. A lui si devono importanti contributi scientifici, in qualità di editor di prestigiose riviste internazionali e coordinatore di progetti di ricerca sul diabete e sulle malattie diabetiche. ricchissima la produzione scientifica, testimoniata da oltre 300 pubblicazioni, tra libri di testo, lavori originali, rassegne in tutti i settori dell'ambito culturale, dell'endocrinologia e delle malattie metaboliche. Un'attività di alta divulgazione e promozione culturale, ricordano ancora dall'Università di Bari, grazie alla quale la Scuola di Endocrinologia, guidata dal professor Giorgino, ha lasciato un segno indelebile nella medicina a livello internazionale. e come colleghi, dice il presidente della Scuola di Medicina dell'Ateneo Barise, il professor Loreto Gesualdo, abbiamo imparato molto dai suoi insegnamenti. La sua lezione di vita e i suoi scritti resteranno nella memoria di tutti noi e nella storia della medicina. Anche la comunità del Policlinico di Bari si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgino, già direttore dell'Unità di Endocrinologia. Si legge in una nota una vita dedicata alla medicina e una straordinaria passione per la ricerca scientifica. Il mondo accademico perde una delle personalità più rappresentative che ha contrassegnato la storia della sanità puglise del Policlinico di Bari. Anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco si stringono al dolore del figlio, il professore Francesco Giorgino e dei familiari. Bari lo ricorderà per la sua passione, per la ricerca e la sua instancabile volontà di trasmettere attraverso l'insegnamento conoscenze e competenze agli studenti e ai suoi collaboratori, sottolinea il sindaco De Caro. Fortissimo era il suo legame anche con la città di Andria, ricorda il sindaco Giovanna Bruno nell'esprimere il cordoglio a nome dell'intera comunità. L'eminente studioso era zio dell'ex primo cittadino Nicola Giorgino. I funerali sono previsti nel pomeriggio alle ore 17 a Bari nella chiesa di San Giovanni Battista.